Ti controlla gelosamente, ti umilia, ti fa sentire inadeguata, ti colpevolizza. Sappi che se è così questo non è amore, perché la violenza non è solo quella fisica. In occasione della giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato ha disposto un gazebo informativo a Piazzale Marconi per far conoscere gli strumenti a contrasto della violenza di genere. È assolutamente fondamentale condividere questi messaggi, far capire alle persone che al di là dell'ambiente familiare, al di là delle ristrettezze in cui si è economicamente vincolati perché non si ha un reddito e magari si è in un ambiente familiare difficile, c'è tutto un mondo all'esterno che gli è vicino, quindi devono sentirsi liberi di potersi avvicinare alle forze dell'ordine in generale e noi in Questura abbiamo un ascolto molto professionale su questo settore, a tutela delle persone che ci vengono a riferire e comunicano di queste attività, delle violenze piuttosto che economiche, ma solo psicologiche e possiamo dargli una mano, ma possiamo dare una mano anche alle persone che le fanno queste violenze, avendoci la conoscenza dei fenomeni. Diverse le donne e le ragazze che durante la mattinata hanno chiesto informazioni agli agenti della divisione anticrimine della Questura. Ci siamo resti conto che proprio in questa realtà stiamo nei pressi di una stazione dove è possibile incontrare varie persone di varie nazioni, abbiamo fatto anche un opuscolo, gli stessi consigli li abbiamo fatti in lingua, li abbiamo utilizzati in arabo, li abbiamo in cirillico, in rumeno, in modo da permettere alle donne a cui diamo questo foglietto, in qualche modo di avere dei consigli anche nella loro lingua, perché ci siamo resti conto che l'handicap linguistico per loro è fondamentale, e quindi in questo caso riuscivi a dare dei consigli nella propria lingua, secondo me è un valore aggiunto.